A prescindere dal fatto che io ho avuto questo diverbio con il padre del brasiliano quando io ho ragione e quando invece il brasiliano si attacca a questa cosa, quando invece tu brasiliano che mi chiamavi apri la diretta, apri la diretta, apri la diretta perché che bello, che bello, che bello, che bello quando stavi con l'ex tu ragazza e perché lì c'ho pure delle nuove testimonianze e te dico fermate perché ti faccio barba e capelli e non solo perché c'ho della documentazione scottante, non solo, non solo ragazzi la reaction che ho fatto sulla diretta del brasiliano che stava ovviamente, vabbè come stava stava so cazzi i tuoi, l'unica cosa che ti consiglio è che la prossima volta è meglio che non la apri una diretta e rimani chiuso dentro casa poi ti fai spaccare dico da sette senicalesi messi in di confilandiana sono cavoli i tuoi. No, però per farti un esempio era, giustamente, ok bravissimo, lì mi piaci Davide, Marra mi piaci, sono gussi, ognuno col sedere su ce fa quello che gli pare, non sto lì a puntare il dito addosso, ma quando però, quando tu apri una diretta fatto fracico e ti fa la richiesta un minorenno e lo fai entrare, sossone, lo fai entrare in diretta e gli dici, shhh, non gli dì a tu madre che stai a parlà con me. Io sai che cosa mi risulta? Mi risulta che te c'hai qualche, dico, un granaggio che non è ingrassato come dovrebbe essere ingrassato e se passi da sti pisti da faccio io ingrassatura pure il doppio taglio, dico, con riporto, dico, ah c'era una volta, quindi che te dico? Te dico, allora, c'è stanno certe cose, certi meccanismi che non mi stanno bene, che dove mi menterò. Però c'è pure un'altra cosa che io ho, testimonianza, c'ho una comitiva intera dove è pronta a testimoniare di persone fisicamente, dove tu hai sfruttato la debolezza di una ragazza minorenne dovuta alla debolezza nei confronti della sostanza stupefacente chiamatasi cotta e te la sei sifonata. Quindi io c'ho tutto documentato in sosseria e lo dico a tutti coloro che si stanno aggiungendo e a tutti coloro che continueranno perché dovete continuare, ragà, perché io vi dico, io c'ho le bombe a mano, c'ho lo smascheramento di un adescatore dei minori, c'ho lo smascheramento di un truffatore, dei portatori di handicap, dei signori anziani e tante altre belle cose, quindi regà, vi dico la verità, allora io sono fiero, felice e contento che intanto chi non mi ha dato due spicci di fiducia cosa che c'è? che vi dico e vi ripeto, solo voi potete scegliere di essere il mare o un bicchiere d'acqua, quindi io sono tsunami che te dico fermate, è la verità perché sono arrabbiato, soprattutto con me stesso sono arrabbiato, perché? Perché gli errori che ho fatto e gli sbagli che ho fatto in passato hanno visto comunque, diciamo, invecchiare dal giorno alla notte i miei genitori, io sono figlio di papà e di mamma, ringraziamo Dio, e non vengo, io vengo da una famiglia umile che hanno fatto sempre i sacrifici e l'ho fatto soffrire, non mi hanno ovviamente obbligato a fare la vita sbagliata che ho fatto in passato, è stata una mia scelta e vi posso garantire che rimpiango il fatto che io abbia fatto del male ai miei genitori ed è per questo che ad oggi sto armato fino ai denti dei contenuti ovviamente per poter salvare il salvabile e questo da solo purtroppo non ci riesco perché posso essere più bello e più cazzuto ma sapete come funziona? funziona che ci vogliono sempre dietro dei guerrieri, io penso che conoscere delle nuove persone, fare amicizia e costruire dei punti e non dei muri e io ho bisogno di costruire dei punti affinché questi punti riescano a sconfiggere il marcio e approfittarsi dei più deboli. Io vedo al cuore tutto me stesso e penso che io sia uno dei pochi che nonostante ho un bacino d'utenza diciamo di 11.600 follower però comunque ancora ad oggi riesco a comunicare con tutti, regà veramente vi dico e nemmeno i ragazzi del Cerbero lo sanno, regà io ho documenti contenuti che potranno scrivere una storia, una nuova storia tutti insieme. Un nuovo arco narrativo del Cerbero. Un nuovo arco narrativo del Cerbero. Sicuramente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.